La mossa di Silvio B, cari amici, Silvio B, Silvio Merlusconi, la mossa di Silvio B per il Campidoglio, da Bertolaso a Marchini, Marchini il Bello. E' una mossa importante, improvvisa, è una mossa improvvisa, direi quasi che, scusate il termine, è uno scherzo da prete, uno scherzo da prete questo qua di Silvio B, Silvio B, una volta potremmo dire cavaliere, ma adesso sembra che non sia più cavaliere. E allora, sì sì, è passato da Bertolaso a Marchini, Marchini è bello, è il Bello di Roma, Marchini. Allora, una mossa da prete, una mossa da prete, uno scherzo da prete, quello di Silvio B. Bertolaso non andava bene, già a partire dal cognome, non va bene un cognome così Bertolaso, ma poi sul Bertolaso prendevano, mi pare, dei processi, mi pare, non va bene presentarsi a Roma sul tuo capo e prendono dei processi. Si semplifica il quadro, il quadro romano si semplifica, la più incazzata di tutti è quella della Garbatella, la Meloni, quella della Garbatella, è la più incazzata di tutti. E' incazzata, ma io, Giorgia, aspetti una bambina, Giorgia, eh? Stai attento, stai attento, Giorgia, perché la bambina se ne accorge, eh, se ti incazzi. Non ti incazzare, Giorgia, capito? Mettiti calma, Giorgia, che non tutto il male viene per cuocere, cara, sai? Stai tranquilla, mettiti calma, eh? E anche Salvini è molto incazzato, eh? Anche Salvini è molto incazzato, perché Marchini si presenta bene, Marchini è il bello del Campidoglio, Marchini. Uh, quante donne lo voteranno, Marchini. Sembra, è meglio di un attore di Hollywood. Pensate che la mossa di Silvio B. è stata applaudita, applaudita o applaudita, anche da, da Fini. Anche Fini, anche Fini, ha detto che il Cavaliere ha fatto una bella mossa. Anche Storace, eh? Anche Storace, ah beh, Fini l'ha detto, perché Fini, Fini vede la Meloni come il fumo negli occhi, anche se stanno nella stessa zona, però Fini vede la Meloni come il fumo negli occhi. E anche Storace, anche se stanno nella stessa zona, Storace con la Meloni, anche Storace vede la Meloni come il fumo negli occhi. Beh, adesso avremo quindi come candidati al Campidoglio, avremo la Meloni, con Fratelli d'Italia e con Salvini, la Lega. Avremo poi Martini, che ha già la sua lista civica e adesso sarà affiancato da Forza Italia. Poi avremo Giacchetti per il PD e poi la Virginia Raggi. Come vedete il quadro, sì, poi abbiamo candidati minori, candidati minori, candidati minori da zero virgola eccetera. I candidati sono La Meloni, che resta un po' spiazzata, ecco la mossa del Cavaliere, La Meloni, Marchini, Giacchetti e Virginia Raggi. D'accordo? Ecco, quindi le previsioni si complicano, eh? Si complicano le previsioni. Perché Marchini è destinato a catalizzare su di sé molte attenzioni, eh? Specialmente dalle donne romane, eh? Andate a vedere quanto è bello Marchini, sì, Marchini. È bello eppure ricco, tra l'altro, eh? Anche se sta, se è schierato, diciamo così, a sinistra. È bello e anche ricco. È erede di una grande famiglia di costruttori. Una famiglia di costruttori che era sempre schierata però col partito comunista, eh? Bene, allora, ma la mossa, questa mossa di Silvio B, prelude a che cosa? È una mossa che sia tattica per la zona del Campidoglio, ma è anche strategica per Palazzo Chigi. Sì, perché si può ipotizzare che Silvio B voglia prendere la strada di Verdini. Già Verdini si è messo vicino a Matteo Renzi. Io ipotizzo che Silvio B voglia portare Forza Italia nella zona di Matteo Renzi. si forma un grande, un grande centro, un grande centro, un grande centro e c'è l'unione tra il padre e il figlio, in fin di conti, eh? Perché Matteo Renzi è il figlio, Silvio Berlusconi è il padre e si riuniscono in questo grande centro, un centro potentissimo che mette con le spalle al muro sia la sinistra che la destra. Per questo che era tanto incazzata Giorgio Meloni, anche Matteo Salvini era tanto incazzato, eh? Bene, cari amici, questa è la situazione. La mossa di Silvio B è proprio uno scherzo da predi, eh? Perché non se l'aspettava nessuno, nessuno ha questa mossa. Beh, vai, vedremo come andranno le rose, eh? A tutti, ah, bene, io distinguo comunque tra mossa tattica per il Campidoglio poi mossa strategica per Palazzo Pigi ok, cari amici? È un'ipotesi la mia, è un'ipotesi, ma è l'ipotesi di un filosofo, capisci? Capite, cari amici? È sempre l'ipotesi di un filosofo. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni